A Foggia si sa, spesso la memoria è corta. E allora così accade che alcuni giovani pensano di accendere fuochi d'artificio in maniera illegale in piazza vittime di Viale Giotto, proprio nel luogo dove si è consumata la più grande tragedia vissuta dalla città dal dopoguerra ad oggi. E quanto è accaduto ieri sera, quando numerosi giovani, dopo essersi riuniti, hanno pensato di far esplodere i giochi pirotecnici proprio a pochi passi dove sorgeva il palazzo crollato l'11 novembre del 1999 in cui morirono 67 persone. Un vero e proprio oltraggio alla memoria, alla memoria di quelle 67 vittime e un oltraggio a tutta la città, quella sana almeno. Non sappiamo cosa stessero festeggiando quei giovani e perché in quel luogo, ma oltre all'offesa, alla mancata sensibilità, ci chiediamo come sia possibile accendere fuochi d'artificio in città e a poca distanza dalle civili abitazioni. Per oltre una decina di minuti quei giovani e quegli spari hanno tenuto sveglio un intero quartiere. Si trattava, ci chiediamo, di materiale autorizzato e come è possibile che tutto sia avvenuto senza alcun intervento delle forze dell'ordine.